Buonasera a tutti, buonasera, bentornati alla diretta del giovedì sera sui canali di ProItalia, un saluto come sempre dal sottoscritto Matteo Brandi, dal Ludovico Vicino, qui al centro, proprio al centro della diretta, entrambi appartenenti alla segreteria nazionale di ProItalia e diamo il nostro bentornato a Filippo Burla. Ciao Filippo. Buonasera Matteo, buonasera Ludovico, buonasera a tutti. Allora vi invitiamo ovviamente a condividere questa diretta ovunque per aiutarci ad arrivare a più persone possibili e ovviamente non potevamo non cominciare senza leggere l'acronimo di Luigi Negro, anche detto l'acronimo Negro, questo ovviamente è un cadeau che facciamo anche all'algoritmo che prenderà questa parola e ci simulerà tutta la diretta. Allora, eccolo qui, l'acronimo dedicato a Dio Mercato, che è proprio il titolo della nostra diretta di questa sera. Deleterio, incontestabile, oppressivo Moloch, esigente rinunce continue attraverso tirannici obblighi. Bellissima, bellissima. Luigi sei un grande. Questa è bellissima. Filippo, credo che tu l'abbia apprezzata. Questo acronimo non è per niente male. Veramente no, ma è diventato ormai un must, come si dice, qualcosa che dobbiamo sempre fare all'inizio della diretta. Allora, salutiamo Filippo, Filomena, Giovanni, Jack, Robismart, che ho avuto anche il piacere di incontrare dal vivo a Roma, quindi saluto due volte. E il grande Max Cioffi, Massimiliano Cioffi, da Pro Italia Milano. Anche Carla Viganò, adesso piano piano vi salutiamo tutti quanti. Allora, di che cosa parliamo questa sera? Di questo culto, tra i tanti che ci sono non ufficiali in Italia, e non solo in Italia, il culto del diomercato. Nello specifico parliamo di quello che sta avvenendo alle bollette degli italiani, che ultimamente, a differenza degli italiani che si ritrovano in qualche modo dimagriti, le bollette tendono a ingrassare. Perché? Perché sta finendo, ormai è finito, il mercato tutelato. Allora, ci sono stati dei fenomeni che nei mesi scorsi ci hanno detto che, con la fine del mercato tutelato, l'apertura al libero mercato, ci sarebbe stata una corsa a ribasso, no? Gli utenti non avrebbero saputo proprio a chi dare il resto, cioè, sarebbe stato un continuo di offerte sempre più basse, sempre più basse, no? Questo ci hanno raccontato. La realtà, certificata poi da degli studi che in realtà dimostrano qualcosa a cui si può arrivare semplicemente con, come dire, anche con un po' di logica, però a quanto pare dobbiamo aspettare che arrivi lo studio che certifichi ciò che è abbastanza ovvio, ovvero che nei momenti in cui ci si apre al libero mercato, anche per quanto riguarda l'energia, i vari gestori, le varie compagnie, in qualche modo assumono un atteggiamento un po' predatorio nei confronti degli utenti e non filantropo, come invece ci è stato raccontato fino a qualche mese fa. E quindi adesso vi faccio vedere al volo questo, a questo, diciamo, uno dei tanti in realtà, uno dei tanti articoli usciti in questi giorni. Ecco, se riesco a condividere, eccolo qua, dovrebbe essere questo, vediamo un po'. Eccolo qua, no, scusate, non è questo. Ah, spoiler! Eh, ma ultimamente non mi funziona benissimo il, eccolo qua, sì, scusate. No, neanche questo. Scusate, ci sono un po' di problemi con l'altro browser che cercherò di risolvere. Eccolo qui, scusate, eh, vi chiedo, vi chiedo, eccolo qua. Olè. Allora, neanche questo. Mi sta aprendo browser a buffo. Scusate, ragazzi, c'è un problema tecnico, cerco di risolvere. Comunque, vi faccio un riassunto. Sul Sole 24 Ore, è uscito a Sole, non solo il Sole 24 Ore, anche sull'Ansa, sono uscite fuori un po' di notizie per quanto riguarda il fatto che gli utenti si sono ritrovati dei contratti cambiati improvvisamente in maniera unilaterale. Cioè, un certo tipo di tariffa improvvisamente si sono ritrovati con una tariffa maggiore per quanto riguarda il consumo di elettricità e gas. Questo ovviamente ha colpito soprattutto i più anziani che magari non stanno lì a controllare in continuazione, ma non solo loro, ovviamente. E poi c'è un articolo, uno studio del, adesso lo vado a riprendere ovviamente, del Centro di Formazione e Ricerche sui Consumi, CRC, che ha visto che le differenze tra mercato tutelato e mercato libero possono arrivare a quasi a 1700 euro, ma a sfavore del mercato tutelato. Nel senso che il mercato libero ti può arrivare a far pagare a famiglia 1700 euro di più all'anno in più. Quindi, Filippo, la domanda che ti faccio, ovviamente un po' provocatoria, ma neanche tanto, quanto sei sorpreso da 1 a 10 di questa dinamica? Si può andare sotto zero con la classifica? Allora, vorrei fare una premessa un po' noiosa di teoria economica, ma la teoria economica è particolarmente noiosa, ma non per questo è meno importante. Per dire quali sono le tre caratteristiche per le quali si può parlare veramente di esistenza di un libro a mercato? Sono, il primo, la concorrenza perfetta, quindi la possibilità di confrontare quasi in tempo reale tutti i produttori, quindi coloro che si collocano dal lato cosiddetto, cosiddetto dal lato dell'offerta. Informazione perfetta, cioè possibilità di guardare anche qui praticamente in tempo reale tutte quelle che sono le condizioni contrattuali, i ricompresi anche i prezzi, e costi di transazione pressoché azzerati nel momento in cui tu vai a scegliere un'offerta oppure un'altra. Queste sono le tre condizioni perché possa esistere un mercato di lavoro. E sono tre condizioni che, se uno fa mente locale, esistono solo ed esclusivamente in un contesto, cioè i mercati di quartiere, oppure i mercati che settimanalmente si tengono, se non si parla di grandi città, ma di piccoli centri di provincia, i mercati che si tengono a cadenza settimanale o in alcuni casi, come nel mio caso, di settimanale. Quello è l'unico caso in cui veramente un libero mercato, secondo quella che è la teoria che postula l'efficienza del libero mercato, può esistere. In tutto il resto si parla sempre di approssimazioni ad un libero mercato. Approssimazioni che in realtà si trasformano spesso e volentieri in un oligopolio. Quindi in presenza di pochi operatori che possono sostenere le spese di ingresso in quel mercato, perché in qualche modo ce la vendono anche come tutti potremmo diventare produttori di energia e tutti potremmo andare a competere su questo libero mercato dell'energia, a patto che si abbiano qualche centinaia di milioni da investire per poter diventare operatori sul mercato. Quindi un conto è comprarsi un camioncino e andare a vendere al mercato di paese, un conto invece è diventare trader o commercianti di energia. Si sta verificando, secondo me siamo proprio in nuce all'inizio di un processo simile a quello che abbiamo già visto essersi verificato con la questione delle autostrade, in cui i vari rami sono stati ceduti a diverse società, perché non c'era solo autostrade per l'Italia, sono tantissimi i rami autostradali presenti in Italia dati in concessione a soggetti privati, per cui l'intera rete autostradale italiana è stata concessa a una serie di pochissimi operatori, ciascuno dei quali per poter investire e per poter investire miliardi, proprio direttamente dei miliardi, sia garantita allo stesso tempo però anche un contesto nel quale all'investimento corrispondeva a primo ritorno, perché d'altronde nessuno di noi investe per avere una perdita, questo mi sembra anche abbastanza pacifico come punto. Se non lo facciamo noi come singoli cittadini privati mi chiedo perché dovrebbe farlo un imprenditore, soprattutto in un settore nel quale sono richiesti degli investimenti biliardari quando non di centinaia di milioni di euro, come ad esempio nel caso del mercato dell'energia elettrica. Quindi quello che si sta creando, mi sembra e temo che alla fine la pratica confermerà la teoria, si sta creando una situazione di oligopoio in cui ci sono pochi produttori che per tutta una serie di previsioni anche legislative, potranno garantirsi delle rendite tutelate e protette, tutelate e protette e soprattutto a rendimento garantito. Rendimento è poi quello che paghiamo noi in bolletta. Ludo, io ricordo una tua diretta di qualche settimana fa dedicata alla questione della fine del mercato tutelato, la trovate sul nostro sito, sul nostro canale YouTube, anche su Facebook si chiama Senza Tutele e come immagine abbiamo messo un nostro volantino in cui abbiamo trasformato la bolletta dell'Enel o dell'Enel, adesso non ricordo, in una sorta di ghigliottina che si abbatte sulla testa dei poveri consumatori italiani, però anche qui io ti potrei rigirare la domanda che ho fatto a Filippo che poi ha spiegato bene perché sia folle pensare che il mercato si regoli da solo e che vada incontro poi al consumatore, questo è il discorso, cioè c'è l'idea che dall'altra parte non si pensi al profitto quando è normale che si pensi al profitto e si pensi invece a garantire un servizio, quando invece questo è un modo di fare che dovrebbe avere uno Stato, non invece chi si occupa della sfera privata. Allora pure a te faccio questa domanda ovviamente provocatoria, quanto sei sorpreso da 1 a 10 se anche tu vai sotto 0, perché credo che staremo tutte e tre sul meno 5. Il problema è che l'esito è scontato, quindi sorpreso poco, c'è da riuscire a sorprendersi del fatto che qualcuno si sorprenda, cioè ci sono una serie di soloni che ci hanno spiegato che tutto sommato non sarebbe successo nulla di grave, che si stanno sorprendendo per quello che sta accadendo adesso, ma addirittura c'è chi in preda a non si sa bene quali fumi, esulta per il grande successo dell'abolizione del mercato a maggior tutela. Ovviamente sto parlando del mitico Maratin, non so se hai visto Matte il tweet. Adesso lo vado a ritrovare, lo vado a ritrovare perché proprio è una cosa meravigliosa, vogliamo che rimanga proprio. In cui si compiaceva della diminuzione dei costi dell'energia, grazie, imputando questa diminuzione, proprio alla fine della maggior tutela, attribuendo dunque alla concorrenza questo grande successo e non considerando il fatto che l'asso di tempo su cui lui bagliava questa diminuzione dei costi in bolletta, presunta, attenzione, presunta, stimata un po' con l'accetta, coincideva proprio sull'asso di tempo in cui c'è stata un'importante riduzione dei costi delle materie prime energetiche su tutti i mercati mondiali. Quindi in linea di massima, diciamo, a parte personaggi di questo tipo, sì, drammaticamente l'esito era scontato. È un esito scontato anche perché, come diceva giustissimamente Filippo... Eccolo qua, eccolo qua. Vi ricordate la questione della maggior tutela? Lo leggo al volo, Ludo, perché ne vale la pena. Vi ricordate gli insulti che prendemmo da destra a sinistra perché dicevamo che i consumatori avrebbero pagato meno? Ricordate le ironie sui liberali? Oggi sono stati resi note i risultati delle aste per il passaggio alle tutele graduali. I consumatori pagheranno in media 130 euro in meno all'anno. Viva il mercato! Viva la concorrenza! Viva la libertà! Se non è una religione questa, io non so veramente. Tra l'altro, ovviamente a seconda dei punti di vista con cui si voglia interpretare queste parole, sono nel migliore dei casi faziose, cioè quando si prende un lasso di tempo, decidi di prendere un lasso di tempo negli ultimi mesi su cui i costi dell'energia sono calati e quindi complessivamente vedi, diciamo così, in prospettiva bollette più basse, attribuendo questo alla fine della maggior tutela e, ripeto, non a quello che è invece il fattore dominante, ossia la diminuzione dei prezzi di energia, oppure se non un'interpretazione faziosa, bisogna riconoscere semplicemente la falsità di queste parole. Tant'è vero che già oggi, come dicevi tu appunto, vari studi mostrano come, anche a seguito delle modifiche unilaterali che stanno fioccando in tutta Italia, e di cui purtroppo molti clienti, molti consumatori si stanno accorgendo, in realtà le prospettive di spesa sono decisamente maggiori, addirittura, come citavi nello studio del CRC, fino a 1700 euro a famiglia in più all'anno, cioè cifre veramente clamorose. Detto questo, però, diceva bene Filippo, cioè perché era evidente, diciamo, quello che sarebbe successo? Perché lo abbiamo già visto, cioè il settore delle, scusa Filippo se uso questo anglicismo, tappati le orecchie, delle utility, anzi delle utilities, delle utilities pubbliche, è un settore che, quando va incontro a una privatizzazione, si mostra straordinariamente invitante per i grandi attori privati, che possono letteralmente investire in un contesto in cui i rischi sono zero, zero, e la rendita è sicura. Perché? Perché banalmente non c'è possibilità di non avere un allaccio all'energia, alla rete elettrica, di non avere un allaccio alla rete idrica, e così via. E in moltissimi di questi casi si gioca in condizioni di effettivo monopolio. Poi, laddove non c'è un monopolio vero e proprio, c'è quello di cui parlava Filippo prima, un oligopolio. E purtroppo le condizioni che auspicano, diciamo, i teorici del libero mercato, di cui parlava appunto Filippo all'inizio della sua disamina, non esistono. Perché? Perché come purtroppo non è noto evidentemente a questi teorici, esiste il telefono. Cioè, qualche persona che si trova, diciamo, a guidare aziende in particolare di maggior peso nel settore della distribuzione dell'energia, ha la capacità di alzare il telefono, chiamare quell'altra, chiamare quell'altro competitor, anche altro anglicismo, anglicismo per far incazzare Filippo, e di conseguenza, una volta fatte non tante, ma quattro, cinque telefonate, la partita è definitivamente chiusa. Questo è il punto cruciale. Non esiste un contesto di libero mercato laddove gli attori che fanno l'offerta sono così pochi. È vero quello che diceva appunto Filippo quando parlava del mercato di quartiere, dove magari gli attori sono un numero notevole rispetto ai clienti, ma soprattutto cambiano e girano, si muovono, mentre invece i clienti hanno la possibilità di conoscerli e avere un'informazione, se non perfetta, quasi perfetta, con la possibilità di mandare a quel paese il salumiere che ha portato un salume non proprio gradevole perché non ci firma un contratto di fornitura, semplicemente comprerà da un altro salumiere alla volta dopo. Si può vivere senza salame, ma difficilmente senza energia elettrica o gas, il discorso è quello perché poi è anche abbastanza codarda come cosa. Ecco, a Filippo faccio vedere un po' di commenti che sono arrivati, Giovanni Careddo, l'indottrinamento però è elevato, è elevato testo universitario di economia politica, Adam Smith ogni due pagine, non solo lui, cioè il discorso è che è ovvio che nelle facoltà di economia o di storia viene in qualche modo alimentato questo mito del libero mercato che si tutela da solo, pensiamo ad esempio alla Bocconi, alla Lewis, che letteralmente producono la nuova classe dirigente che poi va in Unione Europea a chiedere più mercato, poi ne parleremo perché abbiamo un bel esempio, uno strano. Ovviamente c'è lo zampino dell'Unione Europea, scrive Massimiliano Cioffi, che ha deregolamentato i contratti di fornitura del gas, che ora è quotato a breve termine ad Amsterdam, che poi in realtà quello che ha fatto l'Unione Europea è poi equiparare letteralmente gli stati a singoli utenti. Cioè il fatto che non hai più il contratto a lungo termine, perché anche lo Stato, l'intera nazione italiana, deve, come dire, abbandonarsi al libero mercato per la fornitura elettrica, no? Il discorso è questo. Prima si facevano contratti a lungo termine, adesso no, perché andrebbe contro la concorrenza. Quindi vedete, alla base c'è lo stesso identico pensiero. Nel dettaglio, Matte, i motivi per cui i contratti a lungo termine si sono ridotti sono diversi, però i principali sono un moltiplicarsi degli attori sui mercati dell'energia, che invece prima erano pochissimi. Cioè erano fondamentalmente uno, due, tre per Stato. Dopodiché c'è stata una forte liberalizzazione di tutti i mercati e questo ha creato, diciamo così, in termini normativi a Bruxelles, la situazione perfetta per sostenere attività speculative, anche nel contesto dei mercati dell'energia. Certo. Cioè se, in sostanza, io creo un mercato particolarmente volatile, è chiaro che poi andare a stipulare contratti a lungo termine è meno vantaggioso perché mi impone una rigidità che mi impedisce di andare a, altro anglicismo, surfare l'onda e ottimizzare i miei guadagni, diciamo così, speculando. E infine c'è un altro fattore cruciale che ha avuto un ruolo importante nell'abbattere il numero di contratti a lungo termine che sono stati fatti dai grossi operatori dell'energia in questi anni, e cioè la questione della transizione ecologica. Veniva raccontato a Bruxelles costantemente che avremmo fatto a meno del gas, avremmo fatto a meno di questo idrocarburo brutto, che sporca, che diciamo lorda le nostre città, e quindi giustamente di fronte al racconto che dai quei a dieci anni avremmo fatto tutto quanto con il fotovoltaico e l'eolico, molti contratti sono stati, non abbreviati, ma semplicemente non rinnovati, e sono stati formulati contratti di più breve durata in virtù della insicurezza che gli scenari che venivano proposti trasmettevano. Perché è chiaro che se io non so che cosa succede da qui a dieci anni, perché devo impegnarmi a comprare gas da qui a trent'anni? Certo, beh, ci hanno parlato di sole, e invece era sole! Si cambia molto con la o aperta o chiusa. Ecco, Filippo, a questo punto abbiamo toccato la questione dell'Unione Europea, perché poi anche nel PNRR vi erano delle raccomandazioni, ecco, che poi non sono quasi mai raccomandazioni, di aprirsi al libero mercato anche per quanto riguarda l'energia. Quindi gli va riconosciuta una certa coerenza in questo, cioè alla fine tutto torna nel loro modo di intendere, malsano, di intendere come debba funzionare uno Stato e quale debba essere anche il rapporto tra cittadini, forniture elettriche, Telefonia, parlava prima RobiSmart, ci scriveva nei commenti, abbiamo già avuto l'esperienza delle aziende di Telefonia, la concorrenza di facciata è durata per il periodo iniziale, per poi vedere un livellamento dei prezzi ovviamente in rialzo, perché poi all'inizio ti accalappiano magari con qualche sconticino, tu pensi che quella roba funzioni alla maratin, e poi ti ritrovi con dei prezzi cresciuti. Quindi, Filippo, siamo di fronte a un'idea ben chiara di come debba funzionare e poi non funzionano le cose, ecco. Sì, soprattutto nel momento in cui esiste un'autorità centrale, quella della Commissione Europea, che in nome della libera concorrenza, della libertà di mercato, in realtà impone delle scelte che tutto sono tra me che libere. Perché nel momento in cui spinge per escludere alla radice, ad esempio, i contratti di lungo termine per la fornitura del gas, di fatto ci sta togliendo un'opzione. Quindi io non ho più, all'interno della cassetta degli attrezzi, tutta una serie di opzioni tra le quali sceglieremo, solo quella di indicizzare, ad esempio, il gas al prezzo del Transfer Title Facility, il TTF di Amsterdam. Nel momento in cui questo poi mi finisce a, cosa ha toccato? i 300 euro per megawattora, poi sono cavoli nostri. Cioè, è un po' come il, prendiamo ad esempio il mercato dei mutui. Attualmente si può scegliere, per semplificare, poi ci sono tutta una serie di scale di crisi, ma a grandi linee si può scegliere tra un mutuo tasso fisso e un mutuo tasso variabile. Immaginiamo che due anni fa l'Unione Europea imponesse, per qualche motivo, per fortuna non è successo, nemmeno è stato pensato, ma non vorrei dargli al momento delle idee malstane dalle quali poi potrebbero prendere spunto. Immaginiamo che ci imponessero, all'epoca ci avesse riposto, due anni fa, che il mutuo a tasso fisso, visto che vincola per troppo tempo e via dicendo, ha un tasso unico, il mutuo a tasso fisso non è più desiderabile all'interno dell'architettura, vuoi dell'Unione Bancaria, vuoi del mercato dei capitali, con tutta una serie di accorgimenti, concediamo solo la possibilità di stipulare dei mutui a tasso variabile. Uno dice bene, intanto il tasso variabile è sempre stato, fino a un paio di anni fa, inferiore al tasso fisso, nel momento però in cui la Lagarde si è alzata e ha deciso di alzare i tassi come una forza innata, poi c'è della gente che si è ritrovata a pagare il doppio di mutuo, di rata del mutuo rispetto a chi apriva, mentre chi aveva un tasso fisso ha fatto questa scelta e per qualche anno magari ha pagato qualcosina di più di chi aveva un tasso variabile e attualmente si trova a pagare molto meno. Quindi qui è stata data una possibilità di scelta all'utente, in questo caso a chi doveva comparsi una casa, e uno ha scelto il tasso variabile, c'è un altro che invece ha scelto il tasso fisso, però è stata data una libertà di scelta, anche a livello macroeconomico. Nel caso del gas, no, perché è stata data la scelta o mercato a breve termine, anzi a brevissimo termine, a quasi termine praticamente nullo visto che è un mercato spot il cui regolamento è giorno per giorno, il mercato di Amsterdam, o quello o niente. Quindi è vero che con i contratti di lungo termine, chi ha qualche anno in più si ricorderà i famosi contratti take or pay che siglava l'ENI con la Russia, che erano i contratti per i quali ENI, nel caso specifico italiano, poteva essere la Wintershall, nel caso tedesco o altre società nel caso dei mercati di altre nazioni dell'Unione Europea, queste si impegnavano a prelevare un determinato quantitativo di gas ogni anno e a pagarlo ad un prezzo prestabilito. È un qualcosa che penso che nel corso degli ultimi due anni avremmo visto come oro rispetto ai prezzi che si è arrivato a toccare il gas naturale. Questa scelta, questa possibilità di scelta è però stata tolta, quindi mi chiedo che libertà ci possa essere nel ridurre tutte le possibili scelte a una soltanto. Anche questo è veramente una contraddizione che fa sorridere, così come è una contraddizione quello che va dicendo Martín vive il mercato vive la libertà quando pochi giorni fa e qui mi prometto di dire giustamente contestava al ministro Giorgetti la strategia delle privatizzazioni perché in termini tecnici era qualcosa che rendeva aveva un rendimento potenzialmente negativo rispetto a ciò che rende quello che andiamo a vendere e quindi anche lui faccia un attimo pace con se stesso e decide se veramente perché se vuoi veramente un libero mercato lo vuoi allora per tutto non solo per quello che può portarti un consenso di brevissimo termine altrimenti hai voglia poi a gente che si atteggia da statista quando in realtà stiamo parlando veramente di politiche di brevissimo respiro solo una piccola chiusa finale in Italia il mercato dell'energia elettrica ha coinciso con il rapido e potentoso sviluppo economico degli anni del miracolo quindi anni 50 anni 60 e in più anche quel consolidamento dello sviluppo pur con innegabile difficoltà anche negli anni 70 e 80 con un unico produttore di energia elettrica che era l'Enel controllata dallo Stato apro e chiudo parentesi entro in modalità forse non tutti sanno che della stima enigmistica l'Enel non era all'interno dell'istituto per la ricostruzione industriale di cui vedete la diapositiva qui sotto Enel tra l'altro era fuori proprio era fuori dall'Iri così come anche Eni era fuori dall'Iri ma questo non lo impedire di essere al 100% una partecipata statale con la quale tra l'altro si faceva anche una politica non posso dire politica industriale perché la politica energetica non è politica industriale ma è una politica necessaria di sostegno alla politica industriale cioè negli anni in cui l'inflazione galopava perché in Italia l'inflazione ha galoppato forte in determinati periodi che non coincidono con la stampa di moneta forse nata da parte di Banca d'Italia ma coincidono come più o meno ovunque nel mondo con le impennate nei prati del petrolio di fine metà e in un altro caso fine anni 70 come è più o meno accaduto tra l'altro in tutto il mondo in quegli anni queste partecipate statali vuoi quelle telefoniche vuoi quelle autostradali vuoi quelle energetiche si facevano carico per esplicita disposizione politica di assorbire parte del rialzo dei costi quindi internalizzare questi costi all'interno dei loro bilanci per offrire alla clientela un costo del servizio che fosse l'energia fosse la telecomunicazione fosse l'autostrada non dico il più basso possibile che però potesse contribuire a ridurre il tasso di inflazione una leva di politica economica non indifferente della quale adesso siamo totalmente privi cioè perché è vero che Enel e Deini sono due partecipate statali quello Stato che le governa direttamente visto che nomina la maggioranza dei rispettivi consigli di amministrazione e però sono allo stesso tempo anche società che operano sul mercato e che devono rendere conto a azionisti che non sono solo grandi fondi di investimento ma sono anche tanti piccoli azionisti italiani quindi non possono agire proprio perché proprio per statuto meglio per struttura che è stata scelta per tutto il mercato non possono agire come agiva l'Eni come agiva l'Enel nel corso degli anni 70 80 90 perché si ritrovano oddio utilizzo una frase abusatissima con le mani legate visto che sono operatori che operano sul mercato il problema è stato a monte creare un mercato là dove un mercato molto difficilmente può esistere sì va detto Ludo se posso aggiungere che comunque non opererebbero in tal senso nemmeno se avessero la possibilità di farlo perché la cosa grave è che il pensiero per cui il libero mercato sia tutto sommato una buona cosa è che sia normale che gli interi stati ragionino da aziende noi spesso denunciamo l'aziendalizzazione dello Stato italiano non solo per quanto riguarda l'energia ma per quanto riguarda la sanità la scuola l'idea che si debba ragionare come aziende e quindi il profitto venga prima del servizio va detto Filippo che è vero che il comparto energetico durante il boom economico dava ovviamente la spinta all'industria stessa italiana ovviamente gli forniva letteralmente il carburante tra virgolette però è anche vero che una figura come Enrico Mattei ha dimostrato come anche quel comparto potesse funzionare anche in ottica strategica al di fuori dei nostri confini quindi anche avere un controllo come dire diretto di quel comparto che è essenziale un cespite come si dice in italiano quelli che sono gli asset strategici serve anche a una nazione per avere una proiezione verso l'esterno oggi poi sarebbe essenziale pensiamo alla crisi energetica che stiamo vivendo col governo che inventa fantomatici piani Mattei che però devono passare attraverso la commissione europea i prestiti dall'estero cioè lì la differenza che c'è tra uno stato sovrano è uno stato che non vuole nemmeno pensarsi sovrano si fa tutto sentire Ludo eh sì sì diciamo che specialmente quando sentiamo parlare di relazioni con l'Africa relazioni penso con l'Algeria paese il cui legami con l'Italia sono in larga misura ascrivibili alla figura di Mattei e sentiamo scomodare questo nome a fronte di pianificazioni di fatto inesistenti di misure che sono sostanzialmente solo chiacchiere ma che non hanno dietro nessun tipo di capacità di sostenere delle effettive costruzioni delle effettive progettazioni di peso viene un po' male insomma viene viene veramente male a sentire certi propositi associati accostati a certi nomi quando insomma poi sappiamo benissimo qual è la situazione non solo appunto strutturale in cui volge il nostro stato il nostro sventurato stato ma anche direi proprio la situazione culturale in cui grava la nostra classe dirigente parliamoci chiaro ora però mi viene in mente una riflessione da fare visto che Filippo ha toccato un tema molto interessante cioè il fatto che ai tempi in cui queste compagnie che così in maniera brutale violavano qualsiasi principio della concorrenza imponendosi come monopolisti pubblici in questi settori strategici addirittura avevano la pretesa di sterilizzare l'inflazione citava Filippo il caso degli anni 70 appunto in cui a seguito delle varie crisi petrolifere del 73 e del 78 i vari enti diciamo italiani eni su tutti si presero il carico di queste crisi su di sé andando a ridurre la propria quota di utili oggi li chiameremmo così onde sterilizzare quell'ondata inflattiva per tutto il resto della comunità attenzione questa non è una cosa che è successa soltanto in passato in un passato che potrebbe sembrarci remoto ma è successa anche un anno fino a un anno fa in Giappone cioè i giapponesi hanno sterilizzato a differenza di quanto non abbiano fatto altri paesi in occidente l'ondata inflattiva facendo esattamente questo cioè attraverso una serie di politiche fiscali volte a mitigare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia e questo fra l'altro dovrebbe far riflettere su quanto sia demenziale la lettura monetarista di questi teorici del libero mercato per cui politiche fiscali magari finanziate attraverso sì esatto se toghi sembra tene magari finanziate attraverso una importante un'imponente monetizzazione del deficit pubblico poi dovrebbero automaticamente addirittura immediatamente innescare processi inflattivi è proprio il contrario determinate politiche fiscali espansive come quelle che servono a mettere al sicuro famiglie e imprese dall'aumento dei costi dell'energia seppur magari finanziate con la monetizzazione di un deficit riducono e non aumentano l'inflazione quindi questo è giusto per dire quanto sia demenziale di impostazione dopodiché faccio una precisazione che fino ad oggi non abbiamo fatto perché abbiamo intrecciato i due discorsi sia sul ramo diciamo della distribuzione in Italia dell'energia sia sul discorso che abbiamo fatto poco fa sui mercati dell'energia a livello europeo internazionale qui la liberalizzazione è avvenuta su due livelli uno è quello di cui abbiamo parlato che poi ha portato alla formulazione di contratti a breve termine indicizzati al TTF di cui ha parlato poco fa Filippo l'altra però è la distruzione del servizio di maggior tutela ossia di contratti tutelati messi a disposizione prima di imprese poi ormai anche di famiglie da parte di società pubblica perché attenzione questa roba qua ha un altro livello diciamo così di gravità non tutti gli stati europei hanno abbracciato con questa diciamo così devozione l'idea che non dovessero esserci contratti tutelati nella distribuzione di energia specialmente alle famiglie in Francia tanto per essere chiari non funziona così cioè in Francia esiste ancora oggi un mercato tutelato e guardate che l'esigenza di un mercato tutelato quindi di una semplice accesso alla rete elettrica la rete idrica il gas e quant'altro è dato dal fatto che ve ne accorgerete molti di voi spettatori che state ascoltando non avete ancora sperimentato questa cosa nel momento in cui andrete a scegliere un operatore del mercato libero nel mese se non sbaglio di luglio finirà definitivamente la maggior tutela anche per per le forniture di energia elettrica e lì dovrete andarvi a scegliere un nuovo operatore a meno che non vogliate andare diciamo finire insieme ad altri sventurati in quella tramoggia che sono le assegnazioni al migliore operente che vince in asta lotti diciamo così di clienti allacciati alla rete ma supponiamo che decidiate di scegliere in ottemperanza le leggi del libero mercato il miglior operatore bene scoprirete che è veramente difficile scegliere un operatore che sia effettivamente conveniente richiede tempo e notevoli competenze non è facile confrontare letteralmente migliaia di offerte con decine decine di clausole che spesso e volentieri come ci segnalava prima Lanza possono essere modificate unilateralmente in qualsiasi momento non è facile una persona che magari non ha tempo o magari non ha neanche gli strumenti per fare questo tipo di confronto si trova in difficoltà e si dirà ma esistono degli strumenti messi online a disposizione dal pubblico e dal privato per comparare queste offerte ma guardate che molti di questi strumenti non funzionano cioè non è non perché siano fatti male ma semplicemente perché è difficilissimo fare una stima effettiva di quelli che saranno i costi in bolletta a fronti di quelli che sono i contratti che si vanno a firmare ora di fronte a uno scenario di questo tipo ma è ovvio che ci deve essere la disponibilità per il cittadino comune di dire beh mi posso affidare a questo determinato attore perché so che non ha interesse a fottermi cioè parliamoci chiaro avere l'attore pubblico che ti offre un servizio di tutela significa anche essere sereni certo magari ci sarà un attore del libero mercato che ti fa risparmiare 3 euro al mese ne dubito ce ne sono pochissimi circa il il 2 o il 3% delle offerte del libero mercato sono migliori di quanto delle offerte dell'offerta della maggior tutela quanto viene fuori da diverse indagini non più del 5% insomma però è difficile trovarle questo voglio dire invece avere la sicurezza insomma che non stai pagando uno sproposito per quello che stai consumando non ha prezzo non so se mi spiego perché poi c'è il processo di colpevolizzazione Filippo del cittadino io ho letto dei commenti di gente che diceva eh ma dovevano informarsi eh ma dovevano seguire le fluttuazioni che è un po' il discorso che fecero mi ricordo con i risparmiatori di una nota banca italiana che si ritrovavano i propri soldi giocati in borsa e questi fautori del libero mercato dissero beh non dovevano fidarsi dovevano informarsi meglio ma come dice giustamente Ludovico ma un cittadino può affidarsi in questo caso stiamo parlando proprio di una realtà pubblica magari tutelata senza dover stare lì a controllare insomma l'andamento dei prezzi cioè deve essere una libera scelta di una persona non un obbligo in questo caso tu lo dicevi prima Filippo non ti lasciano possibilità di scelta altro che libertà è una parola un po' abusata dalle loro parti in realtà di libertà ve ne è davvero poca sì e voglio parlare di poi di educazione finanziaria dei cittadini quando Banca Etruria ti diceva sì ti concedo il mutuo a un tasso agevolato sono però se compri le azioni della banca che poi sono diventate carta straccia le cosiddette operazioni baciate anche qui parliamo ad esempio della questione del settore bancario hai voglia a dire a un certo punto tu governo a lamentarti del fatto che a fronte dell'aumento dei tassi di interesse sui conti correnti non viene riconosciuto praticamente nulla ai cittadini però allo stesso tempo la banca può applicare quelli che sono tassi di interesse passivi su mutui su tutte le altre linee di credito cioè nel momento in cui tu governo eri all'epoca di queste rimostranze titolare di una banca tra le più diffuse sul territorio cosa ti costava mettere in piedi una politica per la quale tu diciamo diamo un nome alle cose tu Monte dei Paschi di Siena offrivi vuoi dei conti di deposito a un tasso più attrattivo rispetto ad altre banche vuoi degli interessi anche sulle somme magari non vincolate magari un tasso di interesse basso però un tasso di interesse basso è comunque superiore alla 0% che offrivano le altre su quella che è la liquidità depositata sui conti correnti io non dico che ci sarebbe stata la fila agli sportelli per aprire il conto ma qualcosa di simile probabilmente avremmo visto invece l'unica politica che hanno adottato sul monto dei Paschi è quella di cercare di vendere o se vogliamo aggiungersi un S davanti di svendere più o meno al miglior offerente per far contenta l'Unione Europea e la Banca Centrale Europea quindi perché è vero come dicevo prima che aziende pubbliche operano per tutta una serie di motivi per tutta una serie di scelte fatte nel corso dei disgraziati anni 90 all'interno di un contesto di libero mercato però allo stesso tempo puoi anche volendo giocartela all'interno di questo libero mercato quello che mi sembra che manchi è proprio la volontà di farlo è una questione di natura culturale come diceva prima Ludovico di non andare a disturbare un libero mercato che ancora si pretende e si ritiene che possa regolarsi da solo per tutta una serie di motivi quando da solo non si è mai regolato leggevo prima il commento di un ascoltatore non mi ricordo il nome adesso che gli chiedo scusa che parlava ad esempio del mercato della telefonia nel quale effettivamente una cosa va detta per quanto riguarda la telefonia almeno la telefonia mobile nella quale già forse possono risiedere alcune delle caratteristiche che leggevo all'inizio per parlare di un vero e proprio ecco sì di un vero e proprio libro mercato lì in effetti va detto che la concorrenza ha portato ad un calo delle tariffe inizialmente o meglio mi tocca correggere Roberto immagino si chiami Roberto mi tocca correggere nel periodo iniziale non c'è stato un calo delle tariffe un calo delle tariffe si è stato solo successivamente solo successivamente a cosa che a qualche anno in più si ricorderà dei celebermi costi di ricarica non so se ve li ricordate costi di ricarica che per i quali tu compravi questa ricarica da 10 euro ma per qualche motivo la compagnia telefonica te ne accreditava solo 8 perché 2 euro erano costi di ricarica è dovuto intervenire il governo con un decreto a firma Pierluigi Bersani mi viene da dire che Bersani ha fatto anche cose buone con il quale ha eliminato di imperio questi costi di ricarica che oggettivamente non avevano minimamente senso di esistere da quel momento in poi effettivamente le tariffe sono andate incalando o più che andate incalando nel momento in cui tu spendevi 10 euro per una ricarica effettivamente poi ti accreditavano 10 euro sul conto telefonico quindi non ti vedevi il tuo credito decortato sin dall'inizio del 20% quello è forse l'unico caso in cui effettivamente veramente il il buon mercato in Italia è riuscito in qualche modo a offrire un buon servizio alla clientela però tenendo sempre presente questo intervento di imperio del governo che ha di fatto decortato una corda non indifferente di utili di questa società appunto abolendo i costi di ricarica l'unico caso che alcune di queste società ancora oggi spesso e volentieri non se la passino benissimo infatti si parla spesso di soggetto X che vuole acquisire il soggetto Y anche qui vedete si sta si tende ad andare verso un un oligopolio perché poi alla fine strutturalmente è qui che si va a parare con questo non significa che andrebbe nazionalizzato tutto cioè non è che dobbiamo adesso domani alzarci e cominciare a nazionalizzare i bari i ristoranti i rivenditori di autofrutta le tabaccherie oddio anche le tabaccherie tecnicamente sono già nazionalizzate visto che i prezzi delle sigarette sono decisi dal governo è chiaro che esistono dei contesti in cui il libro mercato può funzionare e può prosperare che non è solo la quasi estremizzazione che ho fatto all'inizio del mercato di quartiere nelle grandi città o del mercato di paese nei piccoli centri di provincia però credo che possa esista anche tutta una scala di grigi tenendo a mente che esistono dei settori cruciali strategici importantissimi che non credo e continuo a non credere che possono essere lasciati al libero agire del mercato altri settori invece possono avere una loro altissima dignità nel rimanere all'interno di logiche concorrenziali che possono anche portare del bene non sto parlando però ovviamente di autostrade non sto parlando del vooio delle ferrovie anche qui le ferrovie è vero che con l'ingresso di un secondo operatore all'interno delle linee dell'alta velocità le tariffe sono andate a diminuire mi ricordo per la tratta che mi portava a Roma con il Franciaro non so prima che arrivasse il concorrente di cui non facciamo il nome Italo così per la cronaca prima spendevo anche più di 100 euro per andare a Roma adesso spendo un pochino in meno però va anche detto un'altra cosa Italo non si è fatto il carico di costruire la linea che Milano collega a Roma investimenti per decine e decine di miliardi che la buonanima odio no la buonanima ancora vivo per fortuna che il buon Giulio Tramonti è riuscito a realizzare in barba quelli che erano i vincoli di bilancio dell'Unione Europea portando questo debito al di fuori del debito pubblico aperto e chiuso parentesi su quell'operazione geniale secondo me di finanza creativa l'operatore privato però questa linea costosa e a ritorno estremamente differita nel tempo non l'ha costruita ne sta usufruendo pagando un canone certo a rete ferroviaria italiana va bene però non l'ha costruita lui cioè non si è assunto un rischio di impresa di costruire la linea se è assunto un rischio di impresa non indifferente certo ma solo a virgolette di far circolare i premi una volta che però l'infrastruttura era stata costruita dal pubblico è questo giova 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 ricordarlo allora prima di passare al secondo argomento che è quello delle letterine da Bruxelles perché Giorgetti ci ha fatto sapere che dobbiamo aspettarci che da Bruxelles arrivi la meravigliosa letterina che tanto ci mancava c'è una domanda che magari se vuoi puoi rispondere magari telegraficamente Filippo che ti fa un tuo omonimo Filippo ma queste partecipate statali che sono a maggioranza relativa di proprietà dello Stato esempio Eni a circa il 30% poste a breve eccetera sono in realtà in attesa di essere prima o poi privatizzate al 100% beh in questo caso stiamo forse di fronte a un a un'opzione apocalittica più che altro che io mi ricordo una volta Filippo tu ne parlassi della questione ad esempio di Eni mettendo sul piatto il fatto che comunque generasse un profitto a cui tutto sommato non è facile rinunciare no? anche per le casse statali cioè non bisogna aspettarsi una privatizzazione così magari così totale però una parte sì quello sta avvenendo speriamo anche perché veramente si parla di un flusso di dividendi per l'azionista principale che è allo Stato al pari di tutti anche gli altri azionisti ovviamente visto che sono rispettate i pari condizioni di trattamento però per lo Stato che per tutta una serie di motivi detiene percentuali rilevantissimi all'interno di queste società si parla di dividendi miliardari con rendimenti rispetto a quelli che sono i valori di mercato di queste aziende ben superiori al costo del debito pubblico per cui cedere una quota che ti rende facciamo delle cifre quasi tonde per capirci cedere un qualcosa che ti rende il 5% per pagare per estinguere una passività cioè il debito pubblico che ti costa il 3,5% significa che c'è un differenziale dell'1 al 1,5% che è la perdita netta quindi mi spiace fare lo stesso discorso che faceva Maratin nel contestare le priorizzazioni portate avanti dal governo però se Maratin domani mi dice 2 più 2 quella 4 di certo non lo contesto ma perché per lui il discorso è quello del profitto cioè questa cosa rende e quindi va tenuta così com'è oddio non è discutere che un Maratin al governo potrebbe anche lui voler privatizzare per amore del libero mercato quindi penso che sia fondamentalmente la sua una strategia politica come dicevo prima di brevissimo respiro pur di dar contro al governo no beh però effettivamente è coerente nell'idea che è il profitto la prima cosa a contare quindi se poi una partecipata dello Stato magari non garantisce questo profitto però garantisce un servizio è importante che garantisca soprattutto il profitto quindi il discorso alla fine ci sta a me vengono sempre in mente le parole di Walter Atenau che fu ministro poi tra l'altro assassinato durante la Repubblica di Weimar che prima di divenire ministro era nel consiglio di amministrazione di una società che si occupava di navigazione nel Reno e lui diceva sempre agli azionisti signori questa società è qui anzitutto per far navigare dei battelli sul Reno e poi dopo se riusciamo per distribuire un dividendo agli azionisti poi mettiamo le cose in un ordine gerarchico noi siamo qui per far circolare dei battelli sul Reno poi dopo se la nostra gestione caratteristica che è questa attività di navigazione porta dei risultati distribuiamo i dividendi non prima distribuiamo i dividendi e poi forse se ci rimane qualcosa facciamo circolare i battelli sul Reno ecco certo qualcuno è rimasto indietro di un secolino un po' indietro nei ragionamenti allora passiamo al secondo argomento perché eccolo qua ve lo faccio vedere Giorgetti è scontato è scontato che l'Unione Europea raccomanderà una procedura per deficit eccessivo il ministro dell'economia a breve il DEF avrà una conformazione più leggera andiamo a leggere questo primo paragrafo essendo terminata questo l'avevamo già detto mesi fa ma era abbastanza prevedibile essendo terminata a fine 2023 la sospensione del patto di stabilità e crescita introdotta a seguito della pandemia e prorogata per via della crisi energetica in base all'indebitamento netto registrato dall'Italia lo scorso anno 7,2% del PIL secondo le prime stime Istat è scontato che la Commissione Europea raccomanderà al Consiglio di aprire una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti del nostro come i diversi altri paesi lo ha detto il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione alla Commissione Riunite Bilancio di Camera e Senato sulla riforma della governance economica dell'Unione Europea anche questo Ludo se permetti giro direttamente a Filippo ripetendovi poi una domanda che è quella con cui abbiamo cominciato anche qui quanto sei sorpreso da 1 a 10 perché l'abbiamo detto mesi fa ritorna il patto di stabilità il nuovo patto di stabilità l'abbiamo anche affrontato con Raffaele Raduzzi che semplicemente viene dilazionato il momento della calata della mannaia però la mannaia comunque arriva ci sono tutta una serie di paletti entro cui bisogna stare il braccio correttivo ma tendenzialmente il discorso è che c'è un limite al deficit c'è un limite alla spesa pubblica tu devi rientrare in questi parametri quindi anche qui Filippo è ovvio che prima o poi la letterina a Bruxelles ritorna in un momento in cui invece ci sarebbe bisogno di una forte spinta per aiutare famiglie di imprese in difficoltà e invece ritorna il patto di stabilità ma questo ripeto era ampiamente previsto giusto? Sì l'abbiamo visto negli anni scorsi quanto un combinato disposto di politiche espansive da un lato in vero anche perché va detto ondate inflattiva dall'altro però questo combinato disposto ha permesso al debito forse per la prima volta di prendere veramente una traiettoria decrescente ripeto sia per merito delle politiche espansive che hanno inciso sul PIL quindi sull'aumento del PIL e dunque se la matematica frazioni terzo elementare non è un'opinione sulla riduzione del rapporto debito PIL che vede il PIL al denominatore quindi nel momento in cui aumenta il denominatore il rapporto diminuisce quindi politiche espansive da un lato anche inflazione dall'altro hanno permesso insieme di andare a ridurre ma pure sensibilmente con dei tassi di riduzione incredibili quasi il rapporto debito PIL e qui invece si ritorna di nuovo per l'ennesima volta nella stessa logica per la quale il modo attraverso cui l'Unione Europea cerca di conseguire quello che è un desiderio di politica economica quindi la riduzione del rapporto debito PIL passa per una riduzione del denominatore in valore assoluto quindi una riduzione del debito attraverso cosa? attraverso una riduzione della spesa pubblica nulla di nuovo d'altronde la revisione del patto di stabilità è qualcosa di estremamente gattopardesco per cui veramente è cambiato tutto senza che sia cambiato assolutamente niente per un altro c'è da capire come intenderà il governo muoversi perché è vero che può arrivare la lettera da Bruxelles la procedura di inflazione eccetera come arrivavano però anche nel corso degli anni precedenti e spesso e volentieri ce ne si faceva un baffo una cosa va osservata il DEF ha una sua rilevanza diciamo per usare un termine triviale fino a mezzogiorno nel senso è quasi più che altro una dichiarazione di intendi già qualcosa di più corposo lo vedremo con la NADEF di settembre fine settembre inizio ottobre di quest'anno è lì che si capirà dove vuole andare a parlare il governo e poi successivamente la manovra che sarà poi veramente il luogo nel quale si vedrà un po' tutto il precipitato delle scelte dell'esecutivo non credo che vorranno andare a scardinare l'impianto o meglio la gabbia che Bruxelles si è apprestata a rimettere in piedi dopo gli anni di sospensione del patto di stabilità perché qui si rientra di nuovo all'interno della logica di una legislatura come qualcuno l'ha definita difensiva rispetto all'Unione Europea però la difesa deve contenere in sé in nuce anche qualche elemento di un futuro attacco che attualmente mi sembra veramente difficile da intravedere però qui poi ci vogliamo magari sul punto più politico quindi lascio la palla a Ludovico che è più ferrato di me in materia ecco ci mancherebbe ma in realtà sono d'accordo cioè fondamentalmente è chiaro che Giorgetti si trova a dover fare un lavoro in grato nel senso che per quanto lui sia convinto della bontà di certi dogmi si trova anche a rendersi conto che c'è bisogno di tirare una corda per ottenere qualcosina e quindi io credo anche con una certa furbizia ogni tanto spara delle castronerie colossali quali le proposte di privatizzazioni di enti che magari come faceva notare Marattin rendono più di quanto non renda o meglio più di quanto non costi effettivamente il debito il debito pubblico che andremmo a estinguere attraverso la cessione attraverso la privatizzazione di questi di questi enti quindi io credo che lì ci sia un gioco diciamo così di spararla grossa fondamentalmente per sembrare ben allineato al dispositivo europeo e poi rimanere allineato cercando di ritagliarsi degli spaziucci quanto è lungimirante questa postura quanta aria ti concede poca manifestamente poca è verissimo quello che dice Filippo capiremo soltanto a settembre ottobre come si comporterà questo governo a fronte del ripristino del patto di stabilità e crescita e vedremo anche nei prossimi anni in particolare a partire dal 2025 come la famosa riforma del patto di stabilità verrà recepita perché noi ci facciamo sempre dei grandi film diciamo così analizzando i numeri delle riforme io mi ricordo per esempio non so Filippo tu quanti ci si è intrattenuto ma qualche mese fa quando arrivò un primo testo del famoso patto di stabilità e crescita riformato spendemmo ore e ore in compagnia di Raffaele Raduzzi il responsabile del nostro dipartimento economia cercare di deciprare tutto quello che era stato proposto in termini di novità nel braccio preventivo il famoso braccio correttivo che innescava degli automatismi tutta una serie di cose che poi scompaiono completamente nel momento in cui di fatto ogni volta che c'è un'azione da parte della commissione che venga proposta come automatica o no c'è una trattativa politica parliamoci chiara adesso questa procedura di infrazione verosimilmente ci sarà non arriverà soltanto all'Italia non arriverà soltanto all'Italia perché evidentemente tutti i paesi hanno in questi anni allargato i cordoni della borsa approfittando della sospensione del patto e non è facile anzi è impossibile rientrare nel giro di un anno da quelle regole assurde autodistruttive di conseguenza verosimilmente la procedura di infrazione non sarà particolarmente significativa quindi quello che veramente ci permetterà di capire che cosa succederà che tipo di postura assumerà questo governo sarà appunto la Nadef e poi ovviamente la prossima manovra però però alcuni elementi li possiamo mettere già al fuoco sebbene quest'evento ultimo di questo annuncio della letterina diciamo non dica granché quello che è già stato scritto per esempio nella Nadef dell'anno scorso beh qualcosa ci suggerisce e il fatto che si preveda deficit decrescenti fino se non ricordo male a un rientro nella regola del 3% per il 2027 non vorrei dire una sciocchezza Filippo correggimi se sbaglio ma o nel 2027 o nel 2028 mi pare che ci fossero due anni consecutivi in cui si prevedeva un deficit dal 3-6 e poi uno sotto il 3 in buona sospensione sarò molto onesto non me lo ricordo al momento così su due piedi non me lo ricordo però mi ricordo comunque del sentiero già tracciato che tra l'altro faceva supporre che in in sede di Nadef il governo si stesse già preparando a quello che sarebbe stato un presumibile esito della trattativa sul patto di stabilità quindi questo percorso decrescente c'era esattamente percorso da giustizio quello di cui parlavamo ci dice tutto cioè il fatto che tu ti predisponga in questi termini proprio nel momento in cui stavi affrontando una trattativa quindi avresti bisogno di mostrare gli artigli di mostrare una proiezione all'assalto più che all'attacco di cui parlava Filippo e invece già ti poni con le orecchie basse predisponendoti a fare quello che poi sai che ti diranno di fare non è proprio promettente se poi ci mettiamo ci mettiamo anche il fatto che appunto c'è bisogno di sparare ogni tanto queste sciocchezze sulla svendita di enti pubblici peggio mi sento e se poi si ragiona sul fatto che alcuni alcune quote meglio di questi enti vengono effettivamente svendute pensiamo a che cosa sta venendo fatto con MPS MPS è un caso emblematico insomma di quello di cui stiamo parlando per chi non lo sapesse lo Stato sta rinunciando alle quote di MPS in suo possesso attraverso sappiamo varie altri enti prima o fra tutti i CDP e lo sta facendo in un momento in cui le banche italiane perlomeno registrano utili dal record poi si può discutere sulla moralità delle modalità in cui vengono effettuati questi utili che potremmo discutere però in linea di massima proprio adesso andare a rinunciare a quote di MPS avendo sopportato diciamo il fardello di quella banca quando c'era soltanto da perdere soldi e non da guadagnarne è veramente un brutto segnale un segnale che però non ci dice nulla di nuovo fondamentalmente cioè Giorgetti e in generale il nostro MEP al di là del ministro che lo guida è orientato ideologicamente a seguire le linee di Bruxelles parliamoci chiaro quell'impostazione ce l'hanno prima nella testa che nelle letterine ma il problema se posso aggiungere poi do subito la palla a Filippo il problema è che qui si fa un danno anche da un punto di vista comunicativo perché perché questo governo si pone anche nei confronti dell'elettorato sia a favore che avverso in una maniera del tutto simile a ciò che c'è stato prima e cosa c'è stato prima è la santificazione delle letterine da Bruxelles cioè che poi nei fatti magari quella letterina vada a finire in un cassetto alla fine del deficit superi anche di gran lunga quella che è l'indicazione del nuovo patto di stabilità o nelle famose regole di bilancio di Maastricht Dio le abbia in gloria il discorso è che ciò che passa nell'opinione pubblica italiana è che l'Unione Europea ci ha tirato le orecchie e se non questo governo che si spaccia per sovranista non prende nemmeno non non accarezza l'idea di avere una postura perlomeno di facciata diversa da ciò che c'è stato fino adesso il danno che si fa nell'opinione pubblica penso che anche Filippo sarà d'accordo è un danno politico nel senso che si va a rinforzare l'idea che dall'Unione Europea arrivi la tirata d'orecchie e che sia giusto che quella tirata d'orecchie arrivi e il problema è che questo rinforzamento di quest'idea deriva da un governo che si spaccia invece per essere in controtendenza rispetto a ciò che c'è stato prima quindi in realtà fa un danno doppio quindi il discorso secondo me sulla questione della letterina può essere visto anche da un punto di vista meramente comunicativo perché ciò che passa nell'opinione pubblica è aiuto l'Unione Europea ci ha mandato la letterina e anche il MEF di Giorgetti ovviamente ce la spaccia così dobbiamo dare per scontato che arrivi questo è un discorso e secondo me va a rinforzare quel modo di pensare che noi ritroviamo nell'agire anche degli imprenditori di chi sta in Eni quel modo lì di pensare che è rinforzato anche da questi modi di porsi Filippo allora dal lato devo fare un'errata corrige ho detto una sciocchezza prima me ne sono accorto mentre la dicevo tu mi correggerai mi avresti dovuto bacchettare ovviamente non è attraverso CDP che il MEF aveva le quote di MPS ce l'ha direttamente ho detto una sciocchezza confondendomi con molti altri enti sì tramite CDP abbiamo ad esempio le quote di Eni c'è il ministro dell'economia titolare solo del 4% 4,8% le quote di Eni il resto tramite CDP si parla comunque di articolazioni statali quindi poco cambi insomma la proprietà comunque è pubblica appunto no dal lato comunicativo sì cioè d'altronde anche politicamente si è visto tutta una serie di partiti sia dell'area oddio dividiamola così proprio veramente per fare una divisione proprio di massima dell'area non sovanista che dell'area sovanista si sono confrontati con anche dei consensi a un certo punto esplosi fino a sfiorare il 40% è successo a un certo punto al PD di Renzi che aveva una certa impostazione che portava anche a non piacere però dimostrava una sua coerenza interna al netto ripeto del fatto che non ci piace un'impostazione dimostrava però una coerenza interna in un momento in cui non è più stato in grado di reggere questa coerenza per tutta una serie di motivi dal 40% perché il PD era arrivato elettoralmente anche al 40% si è ritrovato a un bacino di voti dimezzato idem per quanto riguarda ad esempio la Lega che era arrivata non elettoralmente ma nei sondaggi al 40% si è ritrovata con un consenso direi a questo punto molto più che dimezzato quasi ridotto praticamente ad un quarto potrebbe capitare la stessa cosa a Fratelli d'Italia temo a questo punto che se non cambierà il registro politico sì perché l'impostazione difensiva credo che sia giusta anche perché nel momento in cui per 20-25 anni per un quarto di secolo diciamola così che suona più più cupo per un quarto di secolo PD e sopropaggini hanno occupato con grande capacità questo livello è conosciuto ogni propaggine dello Stato andare poi a cambiare tutte le caselle non è un qualcosa di agevole è qualcosa che ti deve anche essere chiaro culturalmente cioè nel momento in cui faccio un esempio di qualche anno fa c'è da rinnovare la presidenza del teatro se non ricordo male era il teatro il teatro stabile di Genova no non era il teatro stabile non mi ricordo ma c'era da rinnovare la presidenza del teatro di Genova e il sindaco di Genova espressione per la prima volta dopo non so anzi per la prima volta da sempre espressione del centrodestra nomina Luca Bizzarri che è uno che se vedesse Salvini probabilmente lo appenderebbe giù per un ponte allora mi dispiace ma stupo io e tu cioè intendiamoci sì c'è proprio un problema di sudditanza ora al MEF qualche modifica è stata fatta ad esempio chi si ricorda di Alessandro Rivera il potentissimo direttore generale del MEF che addirittura sotto Gualtieri che temporeggiava nel momento in cui si era da trattare sulla riforma del MES Gualtieri gli aveva riconosciuto temporeggiava traccheggiava perché c'era un po' anche da tenere insieme l'alleanza con i 5 Stelle che magari almeno a parole non digerivano molto questa riforma mentre ai lavori preparatori del loro gruppo al quale non partecipa il ministro ma partecipa il direttore generale del ministro dell'economia all'epoca Alessandro Rivera dava tutto già per fatto quindi di fatto scavalcando il ministro è qualcosa che veramente non cioè fossi stato in Gualtieri avrei appeso Rivera al muro poi non mi sembra che Gualtieri abbia il physique du roll proprio per materialmente prenderlo ed appenderlo al muro al massimo per suonare la chitarra in diretta tv ecco e quindi sì c'è anche questo questo problema quindi ripeto capisco l'impostazione difensiva ma questa impostazione difensiva deve avere in sé anche qualche elemento che ti possa poi portare ad un attacco ora stasera non so se avete notato sono in bene di paralleli storici per cui faccio qui il parallelo noi quando è che abbiamo vinto la prima guerra mondiale abbiamo vinta dopo una sconfitta non parlo di disfatta perché quella di Caporetto non è una disfatta è una normalissima sconfitta come tante altre nazioni hanno subito durante la prima guerra mondiale solo che in Italia probabilmente già all'epoca l'informazione aveva il vito di piangersi addosso c'è stata questa sconfitta Nicola Cimmino Nicola Cimmino Marco Cimmino Marco Cimmino ti 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 esattamente è lui la fonte di questo di questo pensiero ora l'Italia a livello di storia militare ha sempre avuto una tradizione di capacità difensive quindi lo Stato Maggiore decide di fare una ritirata impegnativa non sulle linee del tagliamento come si pensava ma sulle linee del Piave però in quella ritirata c'erano proprio tutte le condizioni che hanno poi portato alla battaglia di Vittorio Veneto cioè un attacco poi l'abbiamo dovuto sferrare per poterci sedere a Villa Giusti e trattare l'armistizio perché se trattavamo l'armistizio sulla linea del Piave senza aver fatto un contrattacco gli ostolici ci dicevano va bene noi ci fermiamo qui Trieste e Trento rimanevano all'Austria ecco quindi oltre alla difesa è necessario pensare anche una qualche strategia per l'attacco io personalmente attualmente non la vedo poi se dovessero smentirmi ne so solo che contento ma al momento una strategia per l'attacco successivo alla difesa non la vedo mi pare un tentativo di normalizzazione anche abbastanza patetico perché se dall'altra parte sono coerenti nel loro fanatismo a favore di tutto questo dall'altra invece cercano di spacciarti il colore della cella diverso come un miglioramento della cella ora faccio una metafora magari dura però il discorso è quello ma è quello di cui parliamo spesso e volentieri poi c'è la sudditanza culturale che è enorme è enorme perché l'esempio di Bizzari è perfetto è perfetto è proprio quella roba lì ma lo si è visto in tante altre tante altre occasioni Ludo non so se volevi aggiungere qualcosa poi salutiamo Filippo banalmente la mancanza dell'attacco diciamo così la stessa possibilità di sviluppare un attacco per usare questa riprendere questa metafora bellica è sterilizzata dal fatto che non hai neanche la capacità di dire che esiste un'altra strada cioè se non sei in grado di dire che potremmo fare da noi cioè tradotto possiamo fare a meno dell'Unione Europea è sorpresa sorpresa è chiaro che non hai la pistola da mettere sul tavolo cioè per fare per potersi almeno mostrare capaci di un attacco c'è bisogno di mostrare quanto meno un'arma c'è bisogno di essere in grado di dire guardate che se non si fa come dico io allora succede questo ma se tu ti offri proponendo giornalmente un voto diciamo così di lealtà all'Unione Europea ti racconti come un governo europeista un governo assolutamente fedele a certi principi che sono proprio i principi di quel sistema che ti opprime è chiaro che l'attacco è sterilizzato su un nasce non c'è nessuna possibilità di sviluppare è nata è nata la trickle down politic parafrasando la trickle down economy che era l'idea del gocciolamento dall'altro qualche un po' di briciole ti vengo dall'altro c'è la trickle down economy e politic che ha inventato questo governo non è l'unico in realtà non l'ha inventata lui nel senso io mi normalizzo io tranquillizzo chi mi sta sopra e vedrai che qualche cosa mi cade addosso è un modo di fare che porta alla sconfitta porta alla perdita poi di Trento e come diceva giustamente Filippo cioè tu ti attesti su una linea di difesa non hai alcun piano di attacco dici ho posto così mi fermo qui infatti il parallelismo con la prima guerra mondiale ci stava ci stava tutto anzi invito le persone a sentirsi da la lezione di Marco Cimmino sul passaggio da Caporetto al Piave perché smonta molta retorica che abbiamo ascoltato in questi anni anche da personaggi abbastanza famosi insomma detto questo Filippo dimmi concludo questo brevissimo ragionamento poi ti do subito la palla a te e poi a Filippo ovviamente ma anche una forza come quella che oggi è rappresentata al nostro governo Fratelli d'Italia che di fatto vuole si dice europeista o altro europeista la cambiamo dall'interno anche una forza che volesse perseguire da questo obiettivo comunque per poterlo perseguire dovrebbe minacciare la prospettiva di un'alternativa non so se mi spiego anche nell'ottica di chi non come noi dice l'Europa la cambiamo dall'interno c'è bisogno di ventilare la possibilità dell'uscita c'è bisogno di poter mettere la pistola sul tavolo cioè questo è il punto banale la dialettica su questo tema non è concessa se non metti la pistola sul tavolo poi noi sappiamo bene abbiamo una postura apertamente anti-europeista siamo più radicali ma questo è il punto cruciale che sfugge spesso nel dibattito pubblico se vuoi avere qualche chance anche di cambiarla dall'interno posto che non si può fare ma anche se si potesse fare la pistola la devi mettere sul tavolo e se no qual è la tua arma di ricatto cioè se no c'è la 90 degree politics e non la traduciamo ma effettivamente i nostri i nostri ascoltatori ci regalano delle perle veramente 90 degree politics ecco esatto Filippo grazie mille veramente per essere stato con noi stasera come sempre è stata una puntata ricca di informazioni e soprattutto di approfondimenti abbiamo anche in qualche modo toccato quello che è il furco del problema cioè il pensiero base che sta poi alla radice dell'azione poi politica economica abbiamo dimostrato con degli esempi chiari come anche quando c'è la possibilità di fare qualcos'altro non lo si fa perché perché per il dio mercato come abbiamo chiamato giustamente questa diretta il dio mercato però per fortuna non è il nostro non è la nostra di divinità Filippo grazie mille davvero per essere stato con noi io invito le persone a seguirti soprattutto su X Filippo Burla lo trovate molto facilmente perché è un profilo che tu riempi sempre di informazioni di dati quindi è utilissimo io lo seguo sempre tutti i giorni quindi fai un ottimo lavoro davvero grazie mille Filippo davvero grazie Matteo grazie Rodovico grazie a tutti per l'ascolto buona serata a tutti allora alla prossima ti avremo sicuramente qui per commentare altre delizie made in Bruxelles grazie alla prossima Filippo grazie alla prossima grazie ancora a presto eccoci qua beh siamo arrivati proprio diciamo agli sgorcioli intanto come sempre Filippo è stato bravissimo perché poi dimostra quanto al di là dell'aspetto dei tecnicismi che poi possono appassionare oppure no quello che noi facciamo sempre in Pro Italia su cui sbattiamo il martello continuamente è far capire come più che le coercizioni più che i limiti più che altre cose a contare è il pensiero è il pensiero di questi signori che è genuinamente portato all'adorazione del Dio mercato questa gente convinta che è normale che debba funzionare così ed è normale che poi da Bruxelles arrivi la letterina che poi è vero tante volte finisce in un cassetto magari viene edulcorata però sul giornalone prima pagina l'Europa tira l'orecchia all'Italia cioè questo è quello che passa mi sono dimenticato di far vedere una cosa quando era presente Filippo ecco la faccio vedere adesso sanità rischio crack questa è divertentissima no? prima pagina della Repubblica uno dei giornali che ha più spinto in assoluto per il Dio mercato per liberalizzare la sanità pubblica perché i paesi civili la privatizzano la liberalizzano adesso scrive questo primo titolo no? e il bello è quello che si legge sotto c'erano le parole di quel gran patriota di Enrico Letta no? legion d'onore non a caso il mercato unico vedete torna sempre il mercato unico è l'antidoto al declino sovranista quindi ha una problematica politica si economica culturale e come dire e sociale si risponde con l'economicismo puro il mercato unico è l'antidoto al declino sovranista questo è da incorniciare Ludo questa questa prima pagina eh sì purtroppo purtroppo è proprio così cioè è l'idolo l'idolo venerato è il mercato unico o se preferisci il mercato e basta e di conseguenza è la soluzione a tutti i mali nonché come abbiamo spesso detto quando si parla di idoli è ciò che va difeso a spada tratta con le unghie e con i denti perché non si difende da sé perché è evidente a sempre più persone che il mercato unico ha prodotto problemi nel nostro paese ma non soltanto nel nostro paese in generale la costruzione europea che realizza questo disegno di puro mercato ha distrutto la qualità in termini almeno economici delle nostre vite ma di fronte a questa evidenza empirica di fronte anche agli argomenti logici che sostengono questa evidenza empirica non si può far altro che combattere a spada tratta difenderla come si difende un idolo per l'appunto con la violenza e in questo senso qui c'è una violenza la violenza fatta alla logica cioè il declino sovranista viene si sarebbe da discutere sul concetto di sovranismo in tutta evidenza ma insomma viene affrontato come dicevi tu appunto con una soluzione che nulla ha a che vedere con quel declino ma anzi con ciò che l'ha provocato ammesso che si possa definire sovranista il declino che si vive in questo governo nel settore per esempio della sanità questo è un po' il punto cruciale è normale lo abbiamo detto su tanti altri ambiti quello dell'adesione diciamo così al diomercato è uno dei momenti più alti della tendenza all'idolatria di questa fase storica esatto è una anche delle delle espressioni di questo fenomeno un pochino più diciamo così odiose perché è evidente l'implicazione in termini di disuguaglianze sociali di ingiustizia sociale che produce ecco verissimo verissimo intanto Robby Smart ci scrive il pensiero si combatte con il pensiero e su questo siete molto bravi grazie Robby ripeto ho avuto il piacere di conoscerti di persona abbiamo fatto un bel incontro dedicato alla nostra scuola politica Metis che sta andando alla grande ci sarà anche un secondo anno quindi nuovi studenti che affronteranno un percorso per per mettere le basi di quello che sarà appunto il pensiero di una nuova classe dirigente che speriamo che prenda le redini di questo di questo paese che amiamo e che merita di essere amato nonostante tutto che alcuni scrivevano nei commenti certo è difficile stare in Italia in questo momento sì è vero è difficile però rimane il paese insomma in cui abbiamo avuto la fortuna di nascere vi do questa notizia perché perché domenica 7 aprile quindi se ci siamo alle ore 10 a Parco Buscherini via Giuseppe Orceoli 36 a Forlì costui questo qui proprio lui Ludovico Vicino e incontrerà tutte le persone che sono interessate a conoscere il nostro progetto ProItalia la nostra la nostra comunità il nostro partito cosa vogliamo fare cosa stiamo facendo quali sono le nostre prospettive e qual è la nostra costruzione ideologica io appunto anche di questo ho parlato a Roma qualche giorno fa di fronte a una platea di persone che hanno ascoltato finalmente qualcosa di nuovo mi è stato detto questo è qualcosa di effettivamente nuovo perché stiamo costruendo un modo di vedere le cose un'idea diversa di Stato di cittadino che si va poi a declinare nell'aspetto più materiale ovviamente dell'impostazione economica finanziaria ma quello viene dopo prima c'è la visione a cui tendere a quella a cui stiamo lavorando quindi tutte le persone interessate della zona di Forlì e non solo a conoscere ProItalia e anche conoscere dal mio Ludovico vicino colui che ha sbattuto in faccia al sindaco di Como il nostro sostegno a Fleximen che continua andate sul nostro sito c'è la sezione ProFleximen noi stiamo raccogliendo i fondi per sostenere le spese legali di chi dovrà difendere ovviamente di Fleximen che dovrà difendersi insomma in sede legale allora potete andare a Parco Buscherini via Giuseppe Orceoli 36 Forlì domenica 7 aprile dalle ore 10 del mattino ecco quindi un'occasione anche magari di fare due chiacchiere dal vivo perché noi siamo così certo i social li utilizziamo anzi permettimi Ludo io voglio salutare calorosamente coloro che ci stanno seguendo da X perché X ci sta dando un sacco di soddisfazioni mentre YouTube Facebook ci mettono i bassoni tra le ruote in maniera quasi imbarazzante almeno farlo in maniera più no no proprio imbarazzante X devo dire che è uno spazio di condivisione decisamente più libero infatti siamo seguiti da un sacco di persone in questo momento su X quindi vi ringraziamo anzi vi invitiamo magari a condividere questa diretta e a seguirci poi su una nostra pagina ProItalia che insomma dove troverete tutte le informazioni su di noi e vi invito ovviamente a seguirci la pace è un po' lunga Ludo però ci sono tante cose da dire a seguirci sul nostro canale Telegram ProItalia trattino sotto org questo è essenziale che ci seguiate lì Ludo c'è qualcos'altro da aggiungere siamo arrivati alle 22 e 25 forse qualche chiosa sui argomenti che abbiamo toccato in questa in questa diretta allora fammi precisare per quello che riguarda la giornata anzi la mezza giornata a Forlì che via Giuseppe Orceoli 36 non è nient'altro che una delle entrate al parco Buscherini è semplicemente un punto di riferimento perché il parco non è proprio piccolissimo e di conseguenza ci troveremo a questa entrata e poi ci inoltreremo nel parco recandoci in uno spazio dove abbiamo visto ci sono varie panchine in cemento ci permetteranno insomma di accomodarci e di farci una bella chiacchierata dopo magari ce ne andiamo a pranzo tutti insieme con chi c'è quindi sarà come al solito un'occasione per fare un po' di indegna gazzarra insomma indegna gazzarra esatto esatto però sempre costruttiva perché noi facciamo una gazzarra però di un certo livello questo ci va ci va riconosciuto ci va riconosciuto allora diciamo che possiamo chiudere intanto ovviamente invitando le persone che ci stanno ascoltando andare sul nostro sito www.proitalia.org perché lì troverete tutto informazioni eventi e troverete anche la sezione podcast dove Filippo Burla ci ha dedicato parecchi approfondimenti dedicati ad esempio alla questione dell'ENI cosa succederebbe se l'Italia dicesse addio al MES cioè tutti i approfondimenti che potete trovare nella sezione media del nostro sito www.proitalia.org e potete ascoltare tranquillamente poi sono stati editati per ascoltarli ancora meglio quelli che sono degli argomenti che sembrano tecnici ma in realtà sono molto più politici di quanto di quanto sembri perché vedete una delle cose che sbagliate che hanno inculcato nella testa soprattutto dei giovani questa gente tipo alla Maratin alla Boldrina questa gente qui è che l'economia sia una scienza matematica in realtà no è una scienza sociale come diceva qualcuno ok è una scienza sociale perché non basta far quadrare i conti poi vi ho detto che anche questa gente non è neanche brava a far quadrare i conti ma non basta far quadrare i conti perché c'è tutta una serie di come dire di 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 elementi che sfuggono alla semplice matematica e hanno a che vedere con la realtà della società con la natura umana e con le grandi i grandi cataclismi geopolitici che avvengono soprattutto oggi più che mai ok quindi è proprio la visione economicistica non è solo sciocca è anche fallimentare e questa gente ha detto beh vedete se rimaniamo in questi parametri allora sicuramente ci sarà la crescita e non c'è se invece superiamo questi parametri Tokyo diventerà come Atene non è successo oppure come ha detto Maratin se abbandoniamo il mercato tutelato ci apriamo al libero mercato vedrete che le famiglie pagheranno di meno ed è successo esattamente il contrario questo va va ricordato Ludov perché sono degli scivoli tra l'altro Matte sulla matematizzazione dell'economia come come disciplina ha scritto delle cose splendide tanto per cambiare Federico Caffè quale appunto osservava come aver reso quella che era una disciplina nata come strutturalmente umanistica una disciplina che faceva proprio alcuni strumenti delle scienze dure prima fra tutti appunto un'imponente matematizzazione aveva avuto due effetti il primo farne una materia per iniziati al cui dibattito fosse difficile partecipare perché è chiaro che se davanti a te hai delle equazioni differenziali le cui variabili cambiano di passaggio in passaggio anche di nome una persona che magari non è abituata a quel tipo di linguaggio matematico può avere delle difficoltà a seguire dopodiché c'è un altro elemento che l'aver consegnato alla matematica alcune equazioni che provavano a modellizzare la realtà ha anche diciamo così cristallizzato l'interpretazione della realtà mi spiego nel momento in cui il modello gode di una matematica bella pulita anche magari un po' pesante ma pulita improvvisamente si ascrive a quel modello una capacità di descrizione della realtà importante si addirittura ascrive a quel modello la capacità di raccontare la verità su come effettivamente stanno le cose e questo crea un problema che spesso i modelli per l'appunto provano a catturare la realtà a fronte di una serie di ipotesi e a fronte di una serie di approssimazioni che però spesso impediscono di caratterizzare appunto un fenomeno in qualsiasi circostanza questo è vero persino per le scienze naturali figuriamoci per le scienze sociali quindi cosa succede in buona sostanza che con la matematizzazione non solo il dibattito è chiuso alle vestali di questa disciplina ma addirittura le stesse vestali ritrattano quello quello strumento matematico con fare rituale no intoccabile perché l'equazione dice questo e di conseguenza tendono a ignorare quelli che sono i dati che emergono dalla realtà preferendovi quelli che invece i risultati che emergono dalle equazioni racconto un aneddoto brevissimo per capire di che cosa sto parlando non farò nomi ma qualche anno fa qualcosa come ormai 4-5 anni fa mi trovai una sera a una festa di laurea di una persona che conoscevo insomma però di cui non eravamo proprio grandi amici a parlare con una serie di nuove conoscenze che mi trovavo a fare in quel contesto fra queste un economista fra l'altro di un'università d'élite piuttosto prestigiosa con il quale mi trovai a discutere appunto di questioni europee nairu tasso strutturale di disoccupazione eccetera 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 e mentre parlavamo quindi pensate un po' come ero come eravamo malati in quel contesto perché eravamo a una festa dove gli altri ballicchiavano e noi in un angolo fuori ma quel meme il meme di quello che sta in fondo loro non sanno che c'è il nairu era letteralmente quello infatti poi ho capito che accamirsi su certe cose non serviva mai i tempi insomma ancora mi ci mi ci divertiva a fare queste discussioni questo insomma ve la faccio breve era un dottorando anzi in economia in un'università ripeto molto prestigiosa d'élite ecco mettiamola così a queste persone io spiegavo che il pil potenziale che si stimano a Bruxelles insomma in generale il concetto stesso di pil potenziale implica il famoso nairu ossia il tasso di disoccupazione strutturale che ci impongono ne abbiamo parlato tantissime volte insomma quella roba che se uno la mette in termini comuni risulta a chiunque una bestialità cioè l'imposizione di un certo disoccupazione esatto una cosa allucinante eh certo questa persona questa persona mi dice ah no ti sbagli non è vero che nel pil potenziale compare questa nel nell'estimare il pil potenziale compare questa variabile perché il pil potenziale è questo questo questa è l'equazione e io gli dicevo no guarda veramente c'è è anche abbastanza logico che ci sia ora vediamo ora questa persona tra l'altro era presente alla festa uscita da qualche corso con lo zaino sulle spalle mi mostrò incredibile cioè questa scena è surreale me ne rendo conto perché era una con la luce dietro divina no mi mostrò mi mostrò delle dispense di appunti mi mostrò l'equazione e e qui vengo appunto al rapporto rituale con l'equazione mi mostrò uno di questi termini dell'equazione non rendendosi conto che dentro quel termine c'era proprio una dipendenza dal famoso nairo cioè dal tasso strutturale di disoccupazione di cui parlavo io tradotto siccome non veniva esposto esplicitamente nell'equazione ma quel termine in realtà includeva implicitamente una dipendenza dal tasso di disoccupazione strutturale lui non lo vedeva il dogma no cioè c'è scritto questo non c'è ecco questo è veramente interessante perché perché appunto la vestale stessa ripropone il dogma esattamente come con fare eratico no come un sacerdote ripropone appunto un dogma con la differenza che dietro ai dogmi almeno nelle religioni che sono religioni c'è una logica lì no sì che poi c'è una visione puramente materialista che però a cui viene data un'accezione divina è una roba stramba imbarazzante io potrei fare l'esempio famosissimo di quei matematici anzi no erano due economisti se lo fai o francesi a cui venne dato il compito di trovare un'equazione in questo caso da applicare a economie diversissime tra di loro stiamo parlando delle economie che avrebbero poi composto l'unione europea questa meraviglia a cui tutti diamo il nostro amore incondizionato e questi economisti dovevano trovare un limite al deficit un rapporto debito pil da applicare ripeto a economie diversissime e scelsero vedete in questo caso l'aspetto divino io ricordo che questo economista francese disse noi scegliemmo il 3% e gli dissero perché proprio il 3% ma perché suonava bene sai il 3 la trinità ponte volente ponte p 3 suona bene e quindi 3 era anche poco più del deficit pil che aveva fatto proprio quell'anno il governo francese e infatti c'è anche quell'aspetto là cioè ovviamente il giustissimo egoismo nazionale che ha continuato ad esserci da noi invece non sia mai come ha detto giustamente Filippo non ci pensano l'aspetto dell'attacco per l'amor di Dio no e poi l'aspetto quasi come dire cazzerellone che però poi diventa essendosi dietro un numero diventa qualcosa di invece e anche lì poi si scade nello scientismo no nell'idea del in realtà è un modo per coprire una mancanza quella di cui parliamo spesso no quella mancanza di trascendente che l'uomo moderno deve riempire con qualcosa e riempie quando può anche con l'economia perché no tanto ci sono i numeri i numeri sono sacri no quindi il discorso è questo come vedete ritorna sempre bene allora ah ecco Marco Bussi dice potete suggerirmi qualche testo per approfondire questi economisti ma io intanto ti suggerisco quelli buoni o quelli ma io intanto ti suggerisco i lavori dello stesso Filippo Burla perché il libro Tornare Potenza peraltro la prefazione è stata scritta dal nostro amico Gilberto Trombetta è un ottimo lavoro un po' tecnico perché è tecnico però è un ottimo lavoro si chiama Tornare Potenza adesso non ho preparato ovviamente la copertina però lo si trova facilmente ed è un'analisi di come l'Italia si sia andata piano piano a deindustrializzare di cosa fare per invertire la tendenza quindi il mio suggerimento che mi viene in questo momento è sicuramente il libro di Filippo Burla visto che ce l'abbiamo avuto ospite fino a poco fa poi ce ne sono tanti dipende Marco da che cosa vuoi sapere e ripeto se vuoi buoni o cattivi e di cosa vuoi sentir parlare di politica economica di economia politica sono le cose diverse di specifico di macroeconomia di dibattito fra scuole macroeconomiche ci sono tanti i lavori di caffè e anche i lavori di Federico Caffè visto che l'abbiamo citato ma sono tanti i lavori su caffè cioè c'è di tutto quindi se vuoi un'altra volta parliamo magari se hai delle richieste specifiche facciamo un po' di suggerimenti bibliografiche noi quest'estate noi quest'estate sui canali di Pro Italia abbiamo lanciato un po' di libri da leggere sotto l'ombrellone oppure durante le feste sempre lì all'angolo loro non sanno che l'economia è una scienza umanistica e va bene va bene comunque sì ritorneremo anche nel suggerire dei testi a chi ci sta ascoltando detto questo vi pare che ci siamo detti tutto quanto grazie per essere stati con noi vi diamo un grande abbraccio ci vediamo ovviamente giovedì prossimo con un nuovo argomento e un nuovo ospite mi raccomando seguiteci sui nostri canali troverete tutte le informazioni su www.proitalia.org detto questo buonanotte a tutti e alla prossima ciao ciao